Divorzio o non divorzio? 24 giugno 1918, nasce a Bologna il giornalista Jader Jacobelli, direttore, conduttore e moderatore di Tribuna Politica, lo storico programma di confronto e dibattito politico della RAI. Jacobelli, che è stato autore di numerosi saggi di argomento storico, filosofico e televisivo e per molti anni direttore del Radio Corriere, inizia la sua carriera in RAI occupandosi della rubrica radiofonica Oggi al Parlamento. Il programma segue i lavori parlamentari della prima seduta dell'Assemblea Costituente il 25 giugno 1946. Dopo aver lasciato la RAI nel 1986, Jacobelli viene chiamato come consulente alla Commissione Parlamentare di Vigilanza e alla consulta sulla qualità della RAI. Muore a Roma nel 2005. La seconda tribuna della crisi finisce qui. Io mi auguro che la crisi si risolva nel frattempo e non se ne debba fare una terza.